Hai voglia di cambiare la tua immagine? Rivolgiti a Inedito Parrucchieri a Pesaro e Mercatale. Un team di professionisti studierà la tua immagine e i tuoi capelli, creando un look personalizzato scegliendo colore e taglio più giusti per te. Inoltre, Inedito, sono specializzati nell'applicazione di Extension e sono un partner ufficiale di Vella Professional. Prenota la tua consulenza gratuita.